Musica Una buona serata, un buon martedì sera a tutti voi da Chiedelo al Sindaco, ben ritrovato al nostro primo cittadino, il Sindaco di Prato, Matteo Biffoni. Buonasera Sindaco. Buonasera a tutti voi. Buonasera. Buonasera a tutti voi, moltissime coppie si sono sposate, momenti di grande gioia e di grande emozione, Sindaco. Chi decide di sposarsi in palazzo, a meno che non abbia l'esigenza particolare del salone consigliare, trova questa saletta che è dedicata proprio ai matrimoni, anche le raffigurazioni vittorie sono tutte dedicate all'amore, all'amore sia quello più conosciuto ma anche quello verso i figli. Insomma, è la sala che abbiamo adibito alle tante coppie che hanno deciso di sposarsi qui, qualcuno necessariamente deve sposarsi qui in caso di seconde nozze, altri invece scelgono palazzo comunale e questa stanza è proprio pensata e dedicata a tutti loro. Poi molti sposano un salone consigliare qualora appunto ci siano numeri più importanti o per scelta anche perché il salone è molto bello. Però questa saletta secondo me è ben congegnata per chi decide di svolgere una cerimonia. E vogliamo fare questi excursus del corso? Se posso dire ci facciamo anche le cittadinanze qui, che è anche un altro momento di gioia, questa è una sala di gioia diciamo. Qui vengono anche conferite le cittadinanze, le persone che decidono appunto di prendere la cittadinanza italiana e credo adesso vado a memoria, proprio stamattina, quindi il martedì mattina ci sono i conferimenti delle cittadinanze. E' un contraguardo importante per tante persone. Abbiamo voluto fare questo excursus per accompagnarvi nel corso delle nostre puntate anche un po' alla scoperta di luoghi insoliti dei vari palazzi, non solo quello comunale ma di altri luoghi significativi della nostra città. Un breve passaggio, che emozione è sempre quella di poter unire in matrimonio due persone? E' tanta roba. Anche una responsabilità significativa perché poi è un momento centrale per la coppia. Io ho avuto la fortuna, ci sono tantissime coppie di amici ovviamente, ma anche persone che decidono di farsi sposare al sindaco e chiedono la presenza del sindaco, io quando posso vado. Ho sempre pensato che alla fine diventa un po' un'abitudine, invece no perché insomma essere compartecipe di una giornata così importante è sempre una bella emozione, devo dire la verità. Ed è sempre anche una piacevole, devo dire mi piace, tutte le volte riesco vado a celebrare. Bene, a proposito di valorizzazione del circuito della cultura, del nostro bellissimo patrimonio, soffermiamoci sul tema del turismo. Perché nei giorni scorsi come amministrazione avete presentato una nuova pianificazione strategica per la valorizzazione del turismo della nostra città a livello di distretto. Quindi davvero una comunicazione strategica che possa raccontare al meglio e in modo sempre più efficace la nostra città all'esterno, con dati alla mano che segnalano un aumento a doppia cifra dei flussi in arrivo sul nostro territorio anche da parte di stranieri. Quindi positiva è stata l'estate e positivi sembrano essere questi primi nove mesi dell'anno, del 2023. Sì, noi abbiamo dati fino a settembre e devo dire la verità, seguendo un trend che ormai dal 21 del post-covid sembrerebbe essersi consolidato, i numeri stanno aumentando. Sono stabili gli italiani, crescono in maniera significativa gli stranieri, ma crescono con ritmi intorno al 24%, le permanenze al 28%, le presenze. Numeri davvero importanti, è vero, abbiamo sempre detto, riconosciamolo, partivamo da numeri oggettivamente migliorabili. Ecco, i numeri stanno migliorando e stanno migliorando in maniera, diciamo, anche oltre le nostre aspettative, devo dire la verità. E questo ci fa molto piacere e soprattutto ci segnala che la strada intrapresa è quella giusta. Adesso abbiamo fatto un lavoro di coordinamento di quelle, sono le varie forme di turismo che ci sono, perché il turismo è tante cose. Il turismo è la persona che prende, va a fare un giro, a conoscere una città nuova, ma è anche il turismo sportivo, cioè coloro che vengono in città per chiamare c'è un evento sportivo, il turismo culturale, idem con il turismo congressuale, legato agli eventi. Quindi sono tante cose. A questo punto, vista che la strada intrapresa funziona, abbiamo detto, ma perché per esempio non mettiamo in sinergia il lavoro che abbiamo fatto sui cammini? Perché magari non mettiamo insieme il lavoro sui cammini o il turismo sportivo per capire se queste cose possono... Insomma, abbiamo trovato questa piattaforma, questa modalità che abbiamo presentato la scorsa settimana e vedremo se riusciremo a implementare ancora di più la capacità attrattiva del nostro territorio. Il turismo non sarà per Prato, non potrà sostituire mai la manufattura, non potrà mai essere l'asse portante, per come la vedo io, ma è uno straordinario fattore di ricchezza, di allocazione di risorse, ma soprattutto, fatemi dire così, di clima. Perché quello che ho sempre contestato negli anni precedenti, quando era il racconto di una città che era sempre ed esclusivamente narrata per gli aspetti negativi, negativi, completi, ci sono, non è che non voglio negarli, mettiamo la testa sotto la sabbia, ci mancherebbe. Ma è anche vero che a fianco delle questioni aperte ci sono, su cui va lavorato, c'è tantissimo di buono. E io ho chiesto costantemente ai giornali nazionali, alle televisioni locali che vengono qui per firmare la parte complicata, e di darmi lo stesso spazio invece sul tanto della bellezza, della capacità di accoglienza, l'enogastronomia della nostra città, eccetera, eccetera. Devo dire, piano piano, i risultati stanno arrivando. Ripeto, lavoriamo sui punti deboli, ma valorizziamo sempre di più i nostri punti di fuoco. Le nostre eccellenze. Quindi come si concretizzerà questa pianificazione che vedrà protagonisti gli stakeholder del territorio? Saranno delle campagne comunicative ad hoc, delle pubblicità specifiche, delle formule, davvero per fare uno storytelling, come si dice, della nostra città sul fronte del turismo e culturale? L'idea è mettere insieme tutto. Cioè nel senso, qui i professionisti, quelli che di turismo se ne intendono, che se ne occupano costantemente, che hanno una conoscenza profonda del mercato, delle dinamiche del mercato, sapere per esempio a chi ci si rivolge, ti porta poi a fare un tipo di comunicazione a seconda del punto della tipologia di turista che vuoi raggiungere. Insomma, metteremo in campo tutte quelle che sono le strategie più moderne e più efficaci per il nostro territorio, parlando e mettendo insieme in un contenitore unico tutti i vari soggetti che di turismo si occupano e che il turismo conoscono. Che siano appunto tutti gli stakeholder, che sono gli albergatori, che sono i ristoratori, c'è tutto il mondo dell'attività di promozione. Tutta quella parte di produzione culturale che ci deve servire a mettere insieme una sorta di, come dire, pacchetto di mischia complessivo che possa far arrivare il messaggio di venire a visitare Prato, per tanti motivi, a tutti coloro che hanno bisogno di un appiglio per venirci. Glielo vogliamo gettare, vogliamo gettargli questa, quest'esca, diciamo così, per vedere appunto... Tra l'altro sta funzionando molto bene anche il turismo industriale, ne abbiamo parlato a più riprese, quindi i percorsi di tipo sono stati un'intuizione importante. La cosa che si sta espandendo è l'idea di visitare realtà che non sono solo l'archeologia industriale, che pure c'è, ma quello che attrae in maniera particolare è andare a visitare l'archeologia, no, sì, l'archeologia industriale vivente, non so come dire, cioè entrare dentro delle meravigliosi luoghi di lavoro dove la gente lavora davvero, dove si può toccare il lavoro, dove si può vedere quello che succede, sono le nostre aziende e effettivamente i numeri e le richieste, soprattutto ci stanno arrivando, hanno lasciato anche noi abbastanza bocca aperta. Restiamo sull'attualità, sulla stretta attualità, perché torniamo ad occuparci del tema dei minori non accompagnati, quindi bambini che arrivano nel nostro paese e anche sul nostro territorio e che non hanno un rappresentante o un tutore di riferimento. Se ne fa carico quindi l'amministrazione comunale, ne stanno arrivando ancora in queste settimane, più o meno cosa ci dicono i dati e come vi state occupando di questi piccoli? È un macello, io domani sarò in audizione sia alla commissione Schengen che alla bicamerale, perché il tema è sentito in tutta Italia, noi a Prato siamo intorno ai 100 bambini ragazzini stranei non accompagnati, un po' di varie fasce d'età, io come sapete ho scritto al prefetto, ho scritto al presidente del tribunale dei minori, dicendo che d'ora in poi, da qualche settimana in poi, non eravamo più in grado di rispettare le previsioni di legge nell'accoglienza, l'accoglienza, senza farla troppo lungo, l'accoglienza dei minori ha delle leggi specifiche che hanno determinate caratteristiche per l'accoglienza, cosa è impossibile perché non ci sono operatori, non ci sono spazi, le risorse che ci manda lo Stato sono poche, spaga il comune di Prato e questo secondo me non è giusto, ma succede a Prato, a Firenze, a Bologna, a Modena, a Reggio Emilia, a Bergamo, a Cremona, è un po' dappertutto, è un problema, noi lo stiamo dicendo, ma non tanto perché c'è anche le risorse che spendiamo e sono tante, ma anche perché a questi ragazzi non riusciamo a dargli quella necessaria presa in carico che un ragazzino, magari di 14-15 anni, è partito dal Mali, dal Camero, ha attraversato il deserto, ha preso le botte, è stato schiavizzato, ha attraversato il mare, ha bisogno di un sostegno e non è solamente un pasto e un tetto, c'è poi bisogno di un'assistenza psicologica, linguistica, culturale, religiosa, va ricostruito il suo percorso di vita, uno screen sanitario, c'è un protocollo più strutturato, lei dice che tengano conto della persona a 360 gradi. E non possiamo più permetterci di avere commissione fra adulti e ragazzi, perché sennò salta completamente l'impianto. Quindi farà presente questo nuovamente in audizione alle commissioni parlamentari? A questo governo e ai governi precedenti, per un istante elettuale, gli dirò che c'è bisogno di hub, di primissima accoglienza, gli dirò che c'è bisogno di risorse ulteriori, perché se no non sappiamo dove mettere i ragazzini, e affittare un appartamento a Prato o in altre zone d'Italia è veramente costoso. Abbiamo bisogno di operatori formati, quindi di allontanare dal sistema, di allontanare da questi ragazzini, persone improvvisate e che non hanno sufficiente competenza, ma di facilitare l'ingresso degli operatori più qualificati. Insomma, tutta una serie di questioni su cui, come Comuni d'Italia, non solo come Prato... E' tanti anni che chiediamo ai governi, ma siccome nessuno si vuole bruciare le mani su una materia, che lo so, anche a casa lo staranno pensando, è molto incandescente, scotta molto, tutti tendono a girarci in tondo. Però a girarci in tondo, secondo me, è peggiora solamente la situazione. Domande da casa, ci arrivano al solito tutte le settimane, ne selezioniamo alcune, come abbiamo detto anche in apertura. La signora Catiuscia, vado a memoria, una nostra telespettatrice, vuole rivolgere una domanda rispetto all'apertura dei locali. Cioè dice di avere accanto, comunque nelle vicinanze di casa, della propria abitazione, un locale in cui si fa musica anche la sera, fino alla mezzanotte, dice mi sveglio presso la mattina, è possibile terminare la festa un po' prima? Ora, non sapete come la penso, io penso che quando c'è musica è sempre una bella cosa, è sempre un bel momento. Allora, alla signora Catiuscia diciamo che fino a mezzanotte il orario è consentito. Alla signora Catiuscia diciamo anche che chiaramente ci sono dei livelli che non si possono oltrepassare. Cioè mi spiego, fino a mezzanotte è possibile fare attività musicale o comunque tenere la musica accesa in caso di una discoteca o cosa del genere, ma ovviamente senza superare quei limiti che sono previsti dai regolamenti. Quindi andrebbe capito questo. Però tecnicamente fino a mezzanotte il rumore è consentito, i concerti come sapete nelle piazze finiscono a mezzanotte. E poi c'è la grande discussione, poi anche il centro storico conosce benissimo, poi i locali possono stare aperti fino alle 2, però devono appunto togliere, eliminare le fonti di rumore. Questo è un po' il dispiace per la signora Catiuscia. Io spero che la musica sia bella, nel senso almeno quello. Capisco il suo disagio perché alzarsi la mattina presto effettivamente c'è bisogno di rifoso e questo lo capisco bene. Però d'altro canto è anche vero che questo è il regolamento e finché è mezzanotte è il regolamento rispettato. Sono nelle norme previste, rientrano nelle norme previste. Allora noi chiudiamo questa nostra puntata di Chiedilo al Sindaco dandovi l'appuntamento innanzitutto a martedì sera prossimo. Prossimo però lunedì 23 ottobre partecipate numerosi, e qui lascio la parola al Sindaco, all'inaugurazione di Prisma Lab, il nuovo polo culturale del Macrolotto Zero in cui sorgerà il nuovo spazio per la casa delle tecnologie emergenti e i servizi di biblioteca, l'informa giovani, i spazi di co-working. Una nuova realtà che finalmente trova davvero la propria dimensione concreta all'interno di quella zona. Siamo particolarmente orgogliosi, io l'ho detto tante volte, venite perché è un posto meraviglioso, lì ci saranno tanti ragazzi, tante start-up, tante teste pensanti, tanta creatività. Li portiamo in un luogo che molti ci dicevano di evitare all'inizio della legislatura, nel cuore del Macrolotto Zero, in via Filzi, fra via Filzi e via Pistoiese, dopo l'intervento del Playground, dopo l'intervento del Mercato Coperto, arriverà anche qui la destinazione, adesso appunto l'altro grande intervento nel cuore del Marolotto Zero per fare vivere quella zona e riportare lì servizi, persone, teste, ragazzi, ragazzi a studiare, ragazzi a lanciare, a creare le loro imprese, insomma tante cose. Ci abbiamo creduto, è stato un lungo percorso, molto difficile, abbiamo trovato le risorse, abbiamo investito lì. Io del Marolotto Zero ho sentito parlare tanto, io del Marolotto Zero ne conosco bene le difficoltà, parlo costantemente con i residenti, allora avevamo fatto una promessa, che oltre a discorsi e alle chiacchiere e ai controlli e agli ispettori per controllare se il sudicio è portato via bene, a stare attenti e non si sporcassero i muri, e a tutte queste discussioni che a lungo ci riguardano, ai controlli sulle attività commerciali, sulle tavole calde, tutto questo è che faremo, che facciamo e continueremo a fare e non ci mancherebbe altro. Abbiamo detto che noi proveremo a cambiare in parte il volto del quartiere, io credo ci si sia riusciti, almeno in parte, non tutto è sistemato, ma quello sforzo di investire lì tantissimi soldi per portare gli servizi, persone e far girare ancora gli spazi, lo stiamo vincendo appunto. Penso davvero che quella di lunedì prossimo sarà una bella festa cittadina, sarà una festa per tutti. Quindi partecipate tutti, tanti eventi e iniziative, noi ovviamente dedicheremo un focus specifico nella puntata di martedì prossimo a Prisma Lab e a tutte le sue novità. Grazie al sindaco Matteo Vifoni anche per questa settimana insieme, buon lavoro. E buona serata a tutti. E grazie a tutti voi per averci seguito, ci vediamo, lo ripetiamo, martedì prossimo, vi lascio agli appuntamenti della nostra rete e arrivederci su TV Prato. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie per la visione!